Grazie a tutti. Nel realizzare un business plan innanzitutto uno deve avere un modello a cui riferirsi e per quel che riguarda l'ostello è difficile perché non ci sono dei veri e propri esempi da seguire. Per cui noi abbiamo fatto un lavoro di mettere insieme una serie di voci di riferimento ma cercando di immaginarci quello che poi sarebbe stato senza avere la sicurezza. Non è una struttura già esistente da clonare e migliorare ma è qualcosa da realizzare ex novo. Nella nostra struttura, come vi ho raccontato prima, convivo in due realtà. Una che è la parte praticamente ricettiva, quindi l'ostello dedicato ai nostri ospiti, ai nostri viaggiatori. L'altra parte è il bar-ristorante che è anche aperto al pubblico, per cui convivono due realtà diverse. Di conseguenza anche il business plan è un mix di queste due realtà, la parte ricettiva e la parte bar-ristorante. Per fare un buon business plan, innanzitutto uno deve prevedere quali possono essere, dopo aver fatto un'analisi del mercato di riferimento, sia per quel che riguarda la parte ricettiva sia per la parte bar, analizzare quali sono le fonti di ricavo di questa attività e quali sono invece i costi legati all'attività stessa. Sui costi possiamo identificare due tipi di costi, dei costi variabili e dei costi fissi. I costi variabili sono quei costi che variano al variare dell'utilizzo della struttura, come potrebbe essere il riscaldamento, se uno deve riscaldare tutta la struttura perché la struttura è tutta piena, o le pulizie o i servizi di lavanderia, perché dipendono prettamente dal numero di ospiti in quel momento. Altre cose sono i costi fissi come potrebbe essere il costo di affitto dell'immobile o i vari costi di consulenza amministrative, il commercialista, i costi di gestione di una società e adesso pian pianino li andremo ad analizzare a uno a uno. Innanzitutto bisogna, quando uno prova a mettere giù questi numeri, sempre massima prudenza, perché per evitare brutte sorprese è molto meglio pensare a avere molti meno ricavi di quello che uno pensa possa avere la propria struttura, quindi un tasso di occupazione, un'affluenza dei clienti al bar, molto più bassa di quello che uno si immagina e dall'altro lato avere anche i costi molto più alti perché molto meglio avere a fine anno la sorpresa che ci sia sbagliati ma sono stati sottovalutati i ricavi e sopravvalutati i costi che la situazione opposta perché poi potrebbe essere un bagno di sangue quando uno spende soldi che non ha. La parte più difficile per noi da valutare è stata quella legata a se fare un contratto di lavanderia fissa o variabile perché sicuramente è conveniente a pieno regime avere un contratto fisso di lavanderia per cui uno spende una determinata cifra ogni mese è anti-economico in fase di start-up perché se uno pensa magari ho dieci ospiti per i primi tre mesi, punto e basta, mi conviene. Sono tutte scelte che uno deve fare e deve valutare. Sicuramente quel che riguarda la lavanderia e le pulizie sono state le analisi più difficili anche perché non avevamo un vero mercato su cui confrontarci. Il riscaldamento, uno va a spanne e dice a casa mia spendo questo, lì siamo dieci volte più grandi, venti volte più grandi, è un moltiplicatore, uno può immaginare di moltiplicare questi costi. Altre spese come le manutenzioni e le riparazioni, speriamo di non averle sbagliate anche perché nei primi anni di attività è tutto abbastanza nuovo per cui uno non può immaginarsi cosa sono le manutenzioni ma in realtà anche quelle poi influiscono perché avendo l'ascensore ogni anno c'è la manutenzione per legge dell'elevatore, avendo una struttura recettiva c'è il controllo batterologico dell'acqua per evitare la salmonellosi e una serie di altre cose. Ci sono una serie di costi di manutenzione, costi di intervento che servono anche a garantire un alto livello di standard della nostra struttura che a monte sono stati difficili da valutare. Abbiamo un po' sparato, in realtà non siamo andati neanche così lontani da quelle che poi sono le realtà. Ci sono sicuramente dei costi che in qualsiasi tipo di attività troviamo presenti quali spese di cancelleria, riscaldamento, energia elettrica, acqua potabile, telefono e pulizie. Molto più variabili e molto più dipendenti all'attività sono tutte quelle che sono le spese amministrative, la manutenzione del pezzo urbano e i vari contratti e le varie consulenze sia dal punto di vista grafico e amministrativo, consulenze sul lavoro, consulenze delle buste paghe. Allora, detto questo, appunto... Il costo del personale... Dove? Ah, vabbè. Il costo del personale... La parte, ecco, appunto... Facendo un business plan non sottovalutate il costo del personale in Italia. Posso dire che il costo del personale in Italia, perché è uno dei costi più alti che c'è in Europa e, appunto, volendo rimanere nella legalità... Come? Non perché il personale guadagna tanto, ma, come diceva Carlo prima, per dare uno stipendio da 1200 euro al mese, il costo azienda è qualcosa più che il doppio. Si parla di 2550 euro per ogni dipendente. Pensando di averli tutti in regola, quindi tutti assunti, si fa in fretta a moltiplicare questa cifra per il numero di persone che lavorano e capire quanto in un budget influisce... Posso dire che influisce più del 50% dei costi e il costo del personale. E oltre a questo, è importante la struttura recettiva... E' importante per una struttura recettiva come la nostra il fatto che noi siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, perché ovviamente poi c'è il turno di riposo, però il turno di riposo poi noi siamo aperti 7 giorni, quindi c'è bisogno di qualcun altro che venga a lavorare. C'è il discorso delle ferie, poi c'è il discorso... Insomma, uno non è che deve pensare ah ok, io ho 16 ore di lavoro, le divido solo per due, ho bisogno di due persone. No, perché poi ci sono le ferie di uno e dell'altro, ci sono i permessi, ci sono le malattie, ci sono anche mille cose... Scusa Pietro se vado un pelino oltre su questo argomento, ma ad esempio, chi ancora una volta sta nella legalità deve assumersi responsabilità e oneri economici maggiori rispetto a chi non sta nella legalità. Cosa voglio dire? Voglio dire che noi abbiamo un barista, il barista che è uno dei nostri tanti fiore all'occhiello, è il milanese, lo chiamiamo il Matusa di Ostello Bello, perché è il più vecchio, ha 40 e rotti anni, ha sempre lavorato da quando aveva 16 anni, i primi che lo hanno assunto regolarmente con un contratto a tempo indeterminato, sia a noi. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che questo ragazzo, se era fatto male alla caviglia anni fa, non ha mai potuto andare ad operarsi, perché sennò avrebbe perso il posto di lavoro e ovviamente con noi la cosa è diversa, però adesso questa persona andrà via per due mesi, perché dovrà farsi operare, avrà tutto il periodo del decorso normale post-operatorio, però noi fondamentalmente questi due mesi li paghiamo. È vero che c'è l'assicurazione Inel, però comunque tu hai pagato già l'Inel, qualcosa lo paghi poi tutti i mesi, e in più devi pagare qualcun altro che lo venga a sostituire. Quindi, visto che è il costo del personale, noi non abbiamo paura a dirlo, ma questa è una nostra scelta, è una nostra scelta perché vogliamo che le persone che lavorano in un ostello siano felici. È importantissimo, se sei a contatto col pubblico, con i ragazzi che arrivano da tutto il mondo, devi avere persone che siano contente del loro lavoro. E devi soprattutto, visto che noi siamo megalomani, e abbiamo da sempre avuto l'idea di farne tanti di ostelli, cercare di far sì che le persone che lavorano oggi alla reception possano essere i futuri manager degli ostelli che verranno. Questo è anche uno dei motivi per cui l'età media delle persone che lavorano all'interno di Ostello Bello è inferiore a 25 anni. Sì, la maggior parte poi è appunto con percorsi di studio invidiabili. Quindi, concludendo questa cosa, veramente il costo del personale, noi abbiamo problemi a dirgli, la metà del nostro fatturato va via per pagare stipendi e contributi. La metà del fatturato, se voi fate impresa, vi insegnano che un terzo deve essere il costo del personale. Ecco, sì, ci credo, perché credo, perché leggo i giornali, vedo RCS, che non si fa problemi a licenziare quasi il 25% dei propri dipendenti, vedo grandi aziende che chiudono, quindi continuate a raccontare la minchiata dell'un terzo. Non è così. Sappiate, scusate l'espressione un po' coeducata, ma c'è un po' di rabbia nel dirlo, perché c'è una rabbia che deriva dalla constatazione di quello che possiamo notare quotidianamente nel nostro paese. Quindi, se non volete dare diritti, tenete pure un terzo. Se volete fare le cose fatte per bene, sappiate che sarà alla fine poco meno della metà quello che è l'incidenza del costo del personale sul colpo. Sì. Calcolando che ci sono 14 mensilità. Sì, 14 mensilità, ovviamente. Adesso Pietro poi lo... Però era semplicemente per dire che sì, bisogna stare attentissimi a quello. Se volete dare diritti, costa tantissimo. E se volete dare diritti, sappiate che poi pagherete voi per qualcuno che non ha dato diritti prima a quelle persone. Va fatto in maniera consapevole. Va fatto anche con rabbia, però anche con la serenità e il sorriso che deriva dalla consapevolezza consapevolezza della bontà delle tue decisioni. E nonostante questo, comunque sia, poi ciò viene riconosciuto, però comunque mettetevi sempre il cuore in pace perché dovete sapere che comunque poi sarete sempre il datore di lavoro. Ci si lamenterà comunque. Poi ex post verranno riconosciute più cose, però fa parte anche del normale evolversi di queste cosucce qua. Tornando appunto al costo del personale, penso che sia un'assurdità nel nostro sistema, nel senso pensare che una persona costi tra i 32 e i 38 mila euro all'anno e questa persona però in realtà guadagna 1200 euro. Ci sono una quantità di soldi che non vanno direttamente al lavoratore ma che finiscono nei vari enti previdenziali, nei vari tassazioni, le tassazioni del lavoro sarebbe molto più soddisfacente per noi spendere le stesse cifre ma darle in mano al dipendente. Pensare di ci costa 2500 euro, 2600 euro al mese per 14 mesi, perfetto, vuol dire 3000 euro al mese. Questa ragazza non piglia 3000 euro al mese, ne vede 1200. E lì è un'assurdità del sistema che speriamo in qualche maniera si possa cambiare ma non saremo sicuramente noi tre a riuscire a cambiare queste cose. Sì, sì, che hanno degli sprechi incredibili, che non sanno gestire i loro soldi, che ti trovi a Nicola a tre casse previdenziali per il lavoro che ha fatto precedentemente, non gli verranno riconosciute se non pagherà una cifra folle per riunificarle. E uno dice ma perché ho già pagato? Basta sommare. Uno più uno più uno fa tre, ho già dato tre. No, uno più uno fa tre se tu paghi due adesso. E dici ma come? L'ho già pagato. E' quello che è assurdo. Tornando ai nostri... Allora, partiamo dall'alto. Abbiamo detto cancelleria. Credo che sia una realtà delle voci meno influenti delle nostre spese perché avendo una reception, avendo dei compiuti, si parla di qualche centinaia di penne e un po' di carte, niente di che. Materi di pulizie. Noi abbiamo investito tanto su un punto fondamentale è la pulizia del nostro posto. Per cui tuttora noi stiamo continuando a aumentare anche la spesa in pulizia. Abbiamo dato esternamente questo servizio anche perché appunto diventava molto più complicato averlo interno, quindi avere dei nostri dipendenti che si occupassero delle pulizie piuttosto che appaltare esternamente ad un'azienda questo tipo di servizio. Sia per nei casi in cui uno volesse fare delle operazioni straordinarie di pulizie chiama l'impresa e quel giorno ha tre persone e non due, quattro persone e non due, sia per tutti i problemi legati a eventuali malattie delle persone per cui non ti bastavano più avere due persone che tornassero i sette giorni alla settimana per pulirti e risistemare le camere e pulire la struttura proprio perché appunto avendo per diritto il giorni liberi e avendo per diritto le ferie si doveva andare a prendere una terza persona solo per sopperire a queste situazioni. Abbiamo valutato che al momento la scelta migliore era quella di esternalizzare questo tipo di servizio per ottimizzare anche il risultato. Magari è più caro però siamo più liberi di decidere quanto aumentare nei momenti in cui abbiamo bisogno e notiamo che non è perfetta la pulizia della struttura. Ricambi per una lezione piccole reddite attrezzature materiali di consumo sono una serie di appunto oggetti che rendono più bello la struttura piccole migliorie piccole dettagli che adesso abbiamo appunto cambiato i cartelli con cui comunichiamo i servizi che offriamo all'interno per cui in queste voci qua rientra tutta una serie di piccole voci come la macchina per il caffè americano le varie piccole attrezzature lampade in camera l'appendino tutti i dettagli la voce riscaldamento penso che adesso non so se in Puglia ci sia particolare il problema di riscaldamento ma a Milano è una voce che va a incidere abbastanza sui sui costi in realtà poteva essere anche inserita direttamente nella voce energia elettrica perché noi abbiamo messo un impianto che funziona tutto a elettricità sia per la produzione dell'acqua calda sanitaria sia per il riscaldamento della struttura l'acqua calda la produciamo con degli impianti a prego ah no la produciamo con degli impianti a pompa di calore con l'inverter quindi un doppio compressore ed è anche se noi non ci pubblicizziamo come appunto lo stello più eco d'Italia siamo i primi in Italia ad aver utilizzato questo tipo di apparecchiature è una specie di condizionatore che funziona al contrario prende il calore dall'aria esterna con un doppio scambio di pressione con due compressori che fanno un doppio scambio riesce ad arrivare fino a 90 gradi l'acqua abbiamo degli accumulatori noi non accumuliamo anche lì per evitare problemi di salmonellosi e di non so come si chiama ma la qualità dell'acqua abbiamo questi accumulatori che accumulano energia in un fluido e non nell'acqua per cui l'acqua si scalda passando a contatto col fluido caldo e non rimane non stagna calda dentro ai boiler non è un sembra un boiler ma in realtà è un boiler pieno di un fluido che trattiene il calore dentro cui gira l'acqua e si scalda istantaneamente per quel che riguarda l'energia elettrica appunto avendo tutto tutto elettrico sia il riscaldamento sia il condizionamento la produzione d'acqua calda la cucina professionale quindi quella del ristorante è tutta tutta elettrica quindi induzione e resistenze questa è stata una richiesta di vigile del fuoco perché non è detto che ci avrebbero dato il CP perché la cucina se era a gas avrebbe dovuto avere anche lei un'uscita d'emergenza sua riservata quindi la soluzione per il vigile del fuoco era visto che noi in un'altra uscita non l'avevamo mettere in vetrina la cucina così ci hanno detto se volete fare la gas mettete nella vetrina sono valutazioni che poi uno deve fare per fisco lasciarla dove era dove abbiamo deciso di fare abbiamo aspettato sei mesi mi sembra otto mesi per poter avere il potenziamento del nostro contatore e non siamo nel deserto del Sahara dove devono cablarmi la mia abitazione siamo in pieno centro a Milano e penso che un qualunque condominio di quello accanto a noi abbia lo stesso assorbimento di energie elettriche di quello che richiedevamo noi ne avevamo bisogno 90 kilowatt di corrente partivamo con un contatore che ne aveva 30 ci abbiamo messo otto mesi e abbiamo aperto l'ostello abbiamo lavorato i primi tre mesi mi sembra di ricordare con un terzo della potenza che avevamo bisogno per cui la cucina poteva funzionare se non andava il condizionamento nel momento in cui uno chiamava l'ascensore doveva spegnere il boiler dell'acqua calda cioè abbiamo lavorato per tre mesi in una situazione sì sì in una situazione assurda perché per fare un buco di 30 centimetri davanti al portone abbiamo dovuto aspettare otto mesi perché appunto per ottimizzare gli interventi sul suolo pubblico hanno deciso che qualunque intervento in una strada deve passare da una serie di uffici ovvero c'è la riunione di tutti i sottoservizi della città per cui chiunque in quel momento doveva decidire che aveva bisogno di fare uno scavo in quel punto doveva dirlo in quel momento e quindi ha dovuto aspettare la risposta di tutti i vari dalla A2A che produce corrente alla telecom per la telefonica che loro dessero l'ok che non avevano bisogno anche loro di intervenire di dentro a fare qualche operazione se no avrebbero aspettato ancora più tempo però è una cosa chiaramente il bonifico invece per questi lavori l'hanno chiesto subito e quello è partito quindi quelli li hanno presi subito 7.000 euro in anticipo per l'intervento poi dopo 8 mesi sono usciti e in mezza giornata hanno fatto tutto con un vigile all'inizio della via hanno tirato via i sanpietrini hanno fatto un buco passato un cavo chiuso ed era veramente una cosa da 4 ore di lavoro però anche quello dici limiti l'attività la libertà di fare impresa alle persone perché se per averla corrente io devo aspettare 8 mesi le cose diventano vecchie in 8 mesi il motivo per cui grandi aziende all'estero non investono in Italia è da un lato una poca tutela per quello che è l'imprenditore dall'altro lato sembra che ci siano i servizi ma poi in realtà questi servizi non sono così di alto livello come in altri paesi perché ma anche il fatto appunto che uno va in un ufficio dell'ASA a chiedere una consulenza a chiedere come fare una cosa e la risposta è a differenza degli altri paesi dove ti dicono si fai così non hai problemi se cambi sono fatti tuoi noi ti veniamo a controllare se cambi chiudi se fai come c'è a noi vai bene da noi è fai come vuoi quelle sono le regole poi c'è a noi che le interpretiamo e decidiamo se va bene o non va bene che vuol dire ci sono le regole ma poi non ci sono perché anche se tu le segui sono sempre tanti di quei cavigli che ti permettono di essere la parte del torto in due secondi allora andando avanti costi costi del telefono ci siamo divertiti tanto invece dove? sui costi variabili delle colazioni costi variabili delle colazioni abbiamo calcolato cosa influisce appunto la colazione sul nostro budget noi abbiamo un buffet devi venire a fartela non te la dico è facile abbiamo un buffet dove offriamo appunto tè, caffè, latte tre tipi di cereali abbiamo dei termos la macchinetta all'inizio avevano lasciato la macchinetta del caffè americano a disposizione degli ospiti ogni dieci giorni si rompeva e doveva ricomprare la nuova quel punto abbiamo introdotto il termos che è meno carino ma funziona bene nel senso la gestiamo noi la macchina e il caffè ci stiamo più attenti e posso che durare dieci giorni dura un tre mesi c'è anche da dire una cosa che giustamente Pietro ha detto prima di essere molto attenti e agire sempre con prudenza e tutto il nostro il nostro approccio anche tutt'oggi con l'attenzione che si ripongono è fare anche delle scelte di un certo tipo che spesso sono in conflitto un po' con quello che viene detto nel momento in cui bisogna fare imprese e quindi pensare al guadagno noi abbiamo spostato mentalmente l'attenzione sempre comunque su delle cose che vorremmo vedere come guest nel senso che questo business plan è stato fatto anche con questa particolare cosa che è una cosa astratta però col fatto di non dimenticare mai che noi stavamo facendo e che stiamo facendo vorremmo fare degli ostelli sempre come sono rimasti nel nostro immaginario per cui il fatto di fornire la colazione e stare comunque attenti a quello che è comunque un costo è anche quello mentalmente di rivoluzionare poi entriamo nello specifico nel pomeriggio che alcune spese sembrano delle spese ma in realtà contribuiscono ad altre spese che non fai o meglio tutto quello che è servizi e qualità del servizio ha cancellato completamente nel nostro immaginario e nella realtà di Ostellobello delle spese ormai anacronistiche e tutto nell'aspetto ad esempio del marketing noi abbiamo stampato le cose all'inizio sul cartaccio e ci siamo resi conto che in realtà era una cosa che pigliava il milanese che passava ma che bello un ostello di qua di là li prendevi per li trovavi buttati per terra quando invece spostare un certo tipo di spese in servizi o in altro è qualcosa che permette in realtà di aggiungere qualcosa quindi è l'esempio potrebbe essere fatto nella pubblicità uno pensa all'inizio ne pensavamo ah che bello apriamo l'ostello prima cosa che facciamo mettiamo un bellissimo banner in stazione centrale in modo tale che chiunque arriva e chiunque passi di lì ci conosce tempo due settimane abbiamo cambiato subito idea uno per i costi di questi banner in stazione seconda cosa abbiamo visto che forse era meglio concentrare e andare a prendere proprio il tuo cliente per cui abbiamo introdotto il welcome drink tu quando arrivi in ostello ti offriamo una birra un bicchiere di vino un cocktail qualcosa da bere come prima cosa al posto che chiederti soldi perché stai facendo il check-in ti diciamo accomodati al tavolo siediti rilassati compila questi moduli che per legge abbiamo questi tre moduli che dovrai far compilare per la privacy per la questura e per la tassa turistica per cui anche lì è fatto in uno solo che semplificano la vita tutti no ogni volta tre moduli siediti beviti la tua coca cola il tuo drink e rilassati questo è un marketing diretto su il tuo cliente perché questo parlerà sicuramente bene di questo tipo di esperienza ti costa 20 centesimi moltiplicato le persone che hai è una cifra irrisoria rispetto a quello che costava il famoso banner in stazione centrale ma hai un risultato diretto hai il risultato diretto che il cliente ti è soddisfatto il cliente racconta agli altri clienti di questo tipo di accoglienza il cliente va a suggerire ai suoi amici ai suoi conoscenti il tuo posto perché si è trovato bene e quindi vale di più un euro speso per qualcosa di più nei confronti del tuo cliente ma targettizzato al tuo cliente raggiungi direttamente il tuo tipo di target di cliente piuttosto che spendere migliaia di euro nell'aeroporto nella stazione per un banner che leggono tutti per cui magari è anche giustificato il fatto che abbia quel valore ma tu vai a comunicare qualcosa tanta gente tanta gente è il pendolare che va avanti e indietro magari ogni giorno non è un tuo potenziale cliente magari lo racconterà i suoi figli i suoi nipoti e quindi potrà portare clienti anche quello ma sicuramente ha dei costi vertiginosi rispetto a quello che è una coca cola o un bicchiere di birra o il fatto appunto di offrire dei servizi aggiuntivi oltre al solo posto letto anche sul fatto di tenere la colazione sempre disponibile per gli ospiti per cui non è che entro le dieci del mattino di fare la colazione se no finisce è qualcosa che è un di più sicuramente ha un costo per noi perché ci deve essere una persona disposta tutto il tempo a prepararti a darti la colazione ma sicuramente è un tipo di servizio e ha una potenza come come messaggio che vale centomila volte di più rispetto a quel banner nella stazione io penso che rispetto a quello che sta dicendo qui una cosa deve essere chiara è il fatto per cui perché Ostello Bello ha avuto tutto questo successo e va bene sicuramente per un bel po' di fortuna però riteniamo che la ragione principale sia che il nostro target siamo noi noi siamo esattamente l'obiettivo cioè l'utente a cui noi ci ispiriamo pensiamo tutto come se noi fossimo i guest questo poi si ripercuote in maniera importante ad esempio le colazioni è feroce è drammatico perché se io chiudessi la colazione alle 10 io poi non c'è nessuno che deve lavorare magari per quello che si sveglia alle 2 e mezza o alla colazione invece ci deve essere qualcuno che dalle 10 alle 2 e mezza o anche alle 3 alle 4 deve essere disponibile per fare una colazione se tu fai calcoli quanto ti costa una persona per quelle ore in più poi ovviamente non è che lo mettiamo lì ad aspettare che arrivi quello che fa colazione però se uno fa una sorta di comparazione tra costi e entrate che qual è l'entrata di dare la colazione fino a qualsiasi ora non c'è e quindi appunto è importante veramente capire che noi andiamo per ostelli adesso anche nell'ultimo mese siamo stati in giro ma si va in ostello normalmente perché il posto in cui noi ci troviamo bene è il posto che fa per noi poi ovviamente le porzioni devono essere abbondanti e tutto deve essere cosa ma ad esempio tornando alla colazione quanto costa una colazione? Voi lo sapete cosa costa una colazione? Un euro un euro e con un euro con un euro a testa tu riesci a dare tè caffè latte tre succhi diversi tre cereali diversi le uova yogurt frutta fresca a buffè non una mela a testa pane, burro e marmellata tre tipi di marmellata tre tipi di marmellate il coso ma una signora a colazione che a un certo punto dice ma perché gli altri fanno da quelle porcate lì se costa un euro questa cosa e magari ne costa otto un euro a testa un euro a persona la colazione costa sì sì no ma ci mangi al ristorante con cinque ore noi parliamo di cost food noi parliamo esclusivamente scusami quando li faccio ripetere la domanda vuoi ripetere la domanda che da casa non la sento ah chiedo scusa volevo sincerarmi di aver capito bene cioè che nel calcolo del costo del posto letto non lo stello la parte relativa al food la parte relativa alla colazione fosse di un euro da un euro solo le materie prima a persona il posto del cibo è quello che si prende senza il servizio senza tutto ah ok ok la materia prima ok perfetto ora è già tu no 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 ma è quello perché ad esempio sul sul business plan infatti però è importante dividere le due voci perché una è la voce personale un altro è la voce invece del costi variabili colazione ma è più o meno il quanto cibo viene consumato poi ad esempio ci saranno le tazzine i piattini eccetera e quello è un'altra e rientra in una voce ancora una voce differente anche perché appunto noi avendo una struttura che ha dentro un bar il barista è già presente per cui va a incidere sia sul costo della colazione perché lavora per la colazione dei guest sia su quello che è la gestione del bar al pubblico per cui il barista è lì e fa entrambe le cose è anche difficile andare a dividersi no perché così forse abbiamo dimenticato prima ma è importante poi per capire noi Ostello Bello come struttura in via Medici vive di due licenze una che è la licenza ricettiva e l'altra che è quella di pubblico esercizio per cui ulteriormente la nostra difficoltà a volte è separare queste cose che spesso capitano poi nel confronto con il lavoro anche perché in quel momento la colazione magari che chi sta rinfocillando il latte se il ragazzo è il bar sta facendo i carichi magari è la ragazza della reception quindi in quel momento quel costo è il costo del personale del bar o il costo del personale della reception per cui ci sono un po' di difficoltà da questo punto di vista scappate lo sapevo che era noioso i miei questo è il primo risultato della parte noiosa la gente che scappa comunque adesso va bene va bene velocizziamo nella voce spese amministrative che vediamo qua la prima voce tra i costi variabili sono tutte quelle spese legate a commercialista tassa di registro dei libri contabili tassa di tutte piccole spese piccole o grandi spese che rientrano nella normale gestione normale amministrazione di penso sicuramente di qualsiasi tipo di SRL ma penso che anche nel mondo di un'associazione dei costi possano essere alla voce assicurazione abbiamo sia l'assicurazione di responsabilità civile sull'immobile sia l'assicurazione sull'attività che ne facciamo per cui copre furto all'ospite di valori finalmente metà cifra copre particolari tipi di incidenti che possono succedere queste sono le assicurazioni manutenzione computer non mi soffermo nientezza urbana nemmeno perché penso che non ci sia molto da dire abbonamenti libri riviste ne abbiamo ben pochi anche perché spesso avendo appunto il bar aperto pubblico la gente è incuriosita e viene ci porta giornali ci porta soprattutto libri per fare guide abbiamo dei vicini di casa che ci hanno preso molto in simpatia e ci hanno regalato un sacco di guide perché loro hanno una casa elettrice per cui siamo riusciti ad abbassare anche questa voce grazie a l'aiuto dei vicini che ci supportano canone ptv e si ha e qua appunto ci sarà una bella un altro aneddoto che però lascio raccontare o a carla nicola che se ne sono occupati io l'ho vissuto in secondo piano ma è divertente anche quello e ve lo racconteranno nel pomeriggio quel che riguarda pubblicità e promozioni ho detto prima appunto il discorso di noi abbiamo investito veramente poco all'inizio pensavamo di spendere molto di più in questa voce ma abbiamo capito sia per il discorso del banner e del welcome drink sia per l'utilizzo dei social network la new media revolution nel senso che al giorno d'oggi è più facile appunto comunicare attraverso canali più moderni molto meno costosi rispetto a quanto si faceva qualche anno fa in cui si stampavano brochure si stampavano manifesti si comprava spazi pubblicitari su giornali in luoghi pubblici noi su quello siamo stati veramente un po' rivoluzionari abbiamo puntato molto di più su nuovi canali di comunicazione piuttosto che su quello che erano i classici canali per consulenze amministrative consulenze grafiche consulenze paghe e consulenze varie non c'è molto da dire fanno parte appunto di tutte quelle spese di amministrazione di creazione consulenze grafiche c'è la creazione del logo la creazione del sito web e penso che ad oggi l'unica cosa che noi stampiamo sono le mappe e le mappe per gli ospiti ecco è un'altra barzelletta è un altro aneddoto che invece ha seguito Nicola e quindi ci racconterà lui ma a livello di spese di grafica di stampa e di pubblicità e di promozione abbiamo veramente poco servizio lavanderia come ho detto prima abbiamo deciso di esternalizzare anche questo tipo di servizio sia per la mole di lavoro che che comporta sia per una questione di spazi sia per una qualità del servizio per cui ci siamo appoggiati a una società esterna anche lì i due parametri da valutare erano canone fisso canone variabile canone fisso si pagava una quota fissa per una dotazione iniziale di biancheria canone variabile uno pagava il consumo di quella lavanderia anche lì a seconda del tipo di valutazione è una scelta che varia parecchio perché se uno pensa che la struttura possa partire piano e avere dei momenti di bassa stagione compensare dei momenti di alta stagione forse è più comodo avere un canone variabile a consumo se uno pensa che la propria attività non ha tanta stagionalità e che comunque si riesce a mantenere un alto livello di occupazione il canone fisso è sicuramente molto più vantaggioso spese varie rientrano tutte quelle spese in cui non hanno un conto di destinazione preciso manutenzione terrazzi ecco abbiamo cercato di a differenza di quello che fanno tanti alberghi anche di 3, 4, 5 stelle di rendere piacevole la nostra struttura noi abbiamo come sapete su prima le immagini tre terrazze a disposizione degli ospiti e abbiamo cercato di arredarli e di riempirli di verde abbiamo fatto un orto al terzo piano in città che è stato anche fotografato da un sacco di giornali perché è piaciuta l'idea di quest'orto che abbiamo realizzato riciclando tutti i materiali del cantiere che c'erano avanzati per cui tutte le vasche per le piante sono state fatte con i legni le assi di legno del cantiere i rivestimenti interni dei vasi con altri materiali avanzati dal cantiere e questa voce ci teniamo particolarmente perché secondo noi è giusto che anche se se ne è in città uno abbia un contatto con la natura e col verde abbiamo fatto modificare i davanzati delle finestre in modo tale che ogni finestra possa cogliere una serie di vasi e anche alle finestre avere del verde dei fiori piuttosto che il grigio del palazzo di fronte è singolare questa nostra scelta perché tempo 20 giorni dalla nostra apertura anche l'hotel di fronte ha provato a mettere i fiori alle finestre ma è l'orto all'ultimo piano ma con un risultato poco soddisfacente perché nel giro di se non gli dai una manutenzione quasi quotidiana nel giro di tre settimane rischi che ti muoia tutto se non c'è nessuno che bagna le piante l'altra voce che abbiamo nel business plan è l'affitto abbiamo deciso questa è stata proprio una scelta in fase di start up di prendere in affitto l'immobile e non di fare subarcarci di un mutuo per l'acquisto dell'immobile questo perché partendo con un progetto nuovo con qualcosa di nuovo che ancora non era diffuso nel nostro territorio non avevamo dei veri riscontri eravamo sicuri che sarebbe funzionato bene ma era una nostra idea non potevamo sapere se effettivamente era così poi si è dimostrato che fosse così e tutti i nostri consulenti ci hanno sconsigliato di andare già facciamo una roba abbastanza innovativa e rischiosa già investivamo un sacco di soldi nella struttura per adeguarla alle nostre esigenze ci hanno tutti consigliato di evitare di subarcarci anche di un mutuo milionario per i prossimi trent'anni ci hanno detto tutti cominciate così cominciate in affitto poi ma no semplicemente per una questione di flussi di cassa se tu hai ti entrano 10 euro ogni mese e di quei 10 euro comunque tu ne paghi già normal insomma ne paghi 2 di affitto piuttosto che pagarne 5 per avere il mutuo se ci metti poi anche gli altri costi vuol dire che tu non hai nessun tipo di disponibilità economica succede qualcosa tu sei fregato perché tu sei hai un metti da parte che ne so 0,5 all'anno invece avendo comunque un affitto e diminuendo i costi tu metti da parte 3 all'anno non è vero però e quindi cosa vuol dire quindi vuol dire che prima di tutto non sei strozzato in secondo luogo se hai in mente delle migliorie puoi metterle in atto e poi se ti viene l'idea di che ne so ma anche nel caso in cui succeda un imprevisto e per caso uno debba chiudere l'attività un conto è avere un contratto d'affitto e ok ho un vincolo di 6 mesi di preavviso perfetto io continuo a pagare per 6 mesi ma poi chiudo l'attività un conto è avere un mutuo con la banca dove hai magari 6 milioni di euro da dover ridare alla banca non è che la banca gli dici ah no mi sono sbagliato scusate ho fatto degli errori di valutazione in fase di business plan non regge non regge il modello chiudo questi qua dicono ok perfetto noi vogliamo rientrare comunque i soldi che ti abbiamo dato e il core business è l'ostello non l'immobiliare poi c'è anche gente che fa attività partendo non gli interessa fanno ostelli magari non gli interessa il core business all'ostello gli interessa il core business all'immobiliare per cui l'ostello è lo strumento con cui loro riescono a comprarsi gli immobili ma per noi era il contrario l'ostello è lo strumento con cui noi vogliamo lavorare ed è quello che vogliamo portare in giro e replicare poi se un domani si riuscisse anche gli immobili siamo ben contenti di non spendere dei soldi in affitto e diventare proprietario dell'immobili però non è il core business iniziale non è sicuramente questo chiedevo il tipo di contratto che avete fatto quindi la durata temporale come vi siete accordati con il proprietario dell'immobile perché immagino che voi comunque l'investimento in ristrutturazione eccetera abbiate fatto i conti di poter avere a disposizione la struttura per x anni oppure è cioè non so proprio anche legalmente come è che tipo di formula c'è innanzitutto per questo tipo di attività cioè per un canone un contratto d'affitto per una struttura che si vuole adibire a ricettivo che poi sia alberghiero o extraalberghiero la legge dichiara che vale il 9 è più 9 inderogabile ora bisogna stare molto attenti al quel più perché fondamentalmente per le lettere A, B, C, D, E dell'articolo 27 della legge sull'edilizia è un'avvocata quella penalista quindi queste sono robe della civilista proprio però fondamentalmente viene data la possibilità al definiamolo il proprietario di casa di poter riprendersi l'immobile nel caso in cui si verificassero alcune condizioni poniamo che ad esempio c'è un parente entro al secondo grado che ha bisogno di trovare un luogo che possa fungergli da abitazione piuttosto che hai un'attività commerciale e tu vuoi ingrandire l'attività commerciale eccetera 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 quindi ciò che noi siamo riusciti a escludere questo da un punto di vista contrattuale e non c'è nessuna norma superiore che possa vanificare l'effetto di quanto convenuto tra noi contrattualmente comunque noi siamo lì dentro per 18 anni cioè lì dentro non per ammortizzare il costo e poi per evitare che insomma qualcuno cambi idea anche perché poi lì non è che dici si verificano le condizioni ma basta dimostrare che cartaceamente che hai un parente dentro il secondo grado che ha bisogno dell'abitazione poi in realtà questo parente comunque vive già col compagno o con la compagna che è però intestatare dell'immobile quindi risulta che quella invece ma devi per forza comunque la cosa a cui bisogna fare attenzione sono le lettere A B C D E dell'articolo 27 della legge sull'edilizia intanto la legge sull'edilizia che uno dice ah si è voluto normare questo no non si è voluto normare questo la legge sull'edilizia era stata fatta nella primavera del 78 come strumento di contrasto alle brigate rosse è quello il fatto quando appunto bisognava vabbè adesso non faccio la digressione però la legge sull'edilizia è venuta fuori il 21 marzo del 78 esattamente cinque giorni dopo l'ecidio di Viafani dove massacravano la scorta di moro e fondamentalmente in questa legge venivano apportate delle novità e quindi c'era l'obbligo di denuncia alla polizia di stato dell'inquilino entro 8 giorni che era avvenuto il trasferimento piuttosto lì c'era la famosa norma della possibilità della perquisizione in blocco di edifici è dentro la legge sull'edilizia ma perché questo per dire che ancora una volta noi troviamo la produzione normativa in Italia è affidata al caso oppure all'isteria del momento storico in cui si vive e quindi poi non viene effettivamente non risponde alle esigenze per la quale almeno da un punto di vista nominale dovrebbe rispondere c'è troccavolo con quello del contatto che è quello che accennavo prima sicuramente stati fortunati come in tante cose anche ad aver incontrato una persona che si è affezionata al progetto alla volontà del progetto e quindi rispetto all'esperienza precedente è stato molto più più snello venersi incontro queste cose sicuramente è un dato è un dato di fatto innegabile che state anche veramente fortunati a trovare una persona così che tutt'oggi per dirti è uno che mi ha portato il suo magazzino di tutte le robe non vendute di anni e anni e mi ha fatto portare via molte robe dell'arredo che ci sono cioè vorrei vedere chi lo fa proprio ieri ci ha chiamato dicendo si potrebbe passare perché ha saputo che un vicino avrebbe affittato un posto confinante col nostro per cui si era interessato per noi se poteva servirci per espandere l'attività per cui proprio ci sono ancora dei rapporti particolari e lui da subito ha capito quanto bella e geniale era la nostra idea rispetto a i suoi quattro anni a scervellarsi cosa fare in quell'immobile anche perché al primo sopralluogo ha detto se non lo fate voi l'ostello lo facciamo io e mio figlio dopo che era proprio piaciuta l'idea allora andiamo avanti così finiamo che stiamo già sforando la pausa pranzo penso costo del personale appunto rientrano tutti i soggetti che lavorano dentro la nostra struttura per cui sono dipendenti collaboratori e amministratori se vogliamo poi nel pomeriggio andiamo a analizzare un po' le figure che compongono il nostro staff e questa voce passiamo ai vari oneri diversi di gestione vediamo che la prima voce è commissione di prenotazione in realtà più generico è commissione dei portali di prenotazione questa voce è sicuramente abbastanza consistente perché è il 10% in media dei nostri ricavi per cui i portali di prenotazione prendono il 10% di ogni singola prenotazione in anticipo uno dice è una cifra folle in realtà ripensandoci se c'è qualcuno che ti vende tutti i tuoi posti letto appena tu apri la tua struttura e ti butti sul mercato senza nessun altro tipo di spesa solo dicendo a loro vendetemili e loro li vendono secondo me anche se il 10% è tanto e a fine anno vedi queste cifre che diventano sempre più grandi comunque è un servizio tangibile nel senso che senza di loro probabilmente tutti questi posti letto non li avremmo venduti ovvio che più poi uno si fa conoscere sul mercato più riesce a risparmiare su questa voce perché inserisce come noi abbiamo nel nostro portale nel nostro sito un motore di prenotazione il problema è che se non sei conosciuto e la gente non viene direttamente sul tuo sito ma il mercato è in mano a Hostel World per cui 35.000 strutture vendono i posti letto tramite Hostel World ed è il leader nel settore degli ostelli è più facile che ti trovino lì che non sul tuo sito direttamente e allora per i primi anni sicuramente è una voce che uno può anche trascurare perché uno dice tanto me li vendono l'alternativa è magari non averli venduti o fare molta più fatica a vendere o dover fare convenzioni sconti una serie di cose loro li vendono tutto quello che mi mette per cui è una buona sì come se fosse un investimento ma secondo me si può trattare io sono convinto che sì sì adesso alcuni scendono anche al 5 però in realtà Booking.com parla del 20 Expedia pure e soprattutto la cosa sola è che comunque li pigliano in anticipo uno va sul portale prenota anche Hostelbooker piglia il 10% Expedia e gli altri noi in realtà essendo Ostello al momento non siamo ancora perché si occupano soprattutto di hotel loro essendoci nei due o tre portali che è Hostel.com Hostelworld e Hostelbooker e sono proprio sul mercato di riferimento a noi trarchetizzato noi siamo focalizzati su questi tre poi è ovvio che magari no 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 al momento no anche perché appunto già i già quei tre ci permettono di avere appunto la piena occupazione poi dal sito si può prenotare in realtà sul nostro sito ancora siamo agganciati al portale di Hostelworld perché loro ti danno il software la differenza sulla prenotazione che avviene sul tuo sito è la prima della giornata loro si prendono la commissione su tutte le successive non la prendono cioè la dividono con te non è che non la prendono hai un ristorno ma hai un ristorno della commissione a fine mese e noi abbiamo visto che più passa il tempo più la gente viene a prenotare dal tuo sito e non dal portale sono sempre numeri ancora cioè più alti quelli su Hostelworld rispetto al nostro sito ma sta crescendo pian pianino con poi in realtà appunto il mercato di vendita è uno dei canali di cui si occupa Carlo no era semplicemente per dire che rimandando a dopo le questioni sul vero e proprio marketing e la vendita dei posti letto ma noi nominiamo Hostelbookers e Hostel.com abbiamo deciso di andare lì per una questione di visibilità noi i posti tranquillamente li vendevamo solo su Hostelworld poi appunto rimandiamo dopo un discorso più approfondito su come vengono venduti i posti letto però fondamentalmente per chi ha ostelli butti fuori i letti su Hostelworld e a meno che tu non sia Lisbona o Porto pochi altri posti sto parlando di città che hanno un numero di posti letto in ostello impressionante però comunque riesci a ottenere un'occupazione piuttosto alta e poi è ovvio che pian pian più sei conosciuto più devi cercare di dirottare le prenotazioni su canali che a te costino o meno comunque il 10% è poco rispetto a quello che succede uno dei motivi per cui anche lì andremo prima o poi su Booking è perché Booking.com è quello che ha più visibilità attualmente infatti Hostelworld Hostelbookers e gli altri stanno facendo sotto per quanto effetti di mercato sta prendendo Booking però andiamo lì semplicemente per avere visibilità su quel sito non abbiamo nessun interesse a vendere su Booking come centri di ricavo come centri di ricavo sono più importanti quindi ricavi che derivano dal bar aperto per esempio all'esterno o dalla vendita a letti o dagli extra tipo la birra che si beve il ragazzo è tutto insieme anche lì è tutto insieme tu non puoi pensare ah ma guadagnando di più dal bar il bar funziona bene perché c'è un ostello che funziona bene l'ostello funziona bene esattamente sì questo sicuramente sì sì perché poi più o meno non dipende poi dalle stagioni cioè l'ostello alla fine è sempre pieno ma noi facciamo perché prendo ostello perché noi faremo un errore enorme se ci mettessimo qua a parlare di bar perché noi non facciamo bar cioè deve essere ben chiaro dentro la nostra testa che noi facciamo ostello e quel posto deve essere un ostello perché sennò poi arriverà il mese perché arriva in cui tu guadagni di più dal bar rispetto che dall'ostello allora dici ah ma se cambiassi questo se mettessi a posto questa cosina in più eccetera stai andando in un'altra direzione cioè alla fine il giocattolino ti si rompe anche perché cos'è la cosa che ci sono sempre detti noi ragazzi guardate che i bar seguono le mode il ciclo di un bar a parte veramente casi che si contano su ciao su una falange su una mano sono pochissimi i bar che rimangono ah il bar storico di x y z no seguono le mode sì si si no ma non era rifinalizzata la domanda ok chiudo l'ostello divento soltanto bar era per capire un attimo anche in un business business plan capire pure io ho che ne so 25 posti letto che però mi rendono tot poi la maggior parte del ricavo lo devo trovare da altri poniamo così tu guadagni 600 euro al giorno per i biletti che vendi e poi magari ne fai 1200 di bar e se già inizi a pensare a questo dici aspetta un attimo ma io quanto mi costano no no quanto mi costano i dipendenti dell'ostello quanto mi costano i dipendenti del bar ah ma l'affitto di qua l'affitto inizia a fare i conti così e poi ti ritrovi sul bar perché il bar se funziona bene se è pieno di gente tutte le sante sere è ovvio che guadagni di più però se tu inizi a pensare a come guadagnarvi perché poi i letti ce li hai già sono già tutti venduti non puoi aumentare e allora ti butti sul bar è per questo che rispondendo a te fondamentalmente io cercavo di rispondere a noi quando ci facciamo i nostri i nostri conti ho capito la natura della domanda però ti prego di capire la natura della risposta che è già oltre allora la risposta è che molto spesso anzi a fine anno più o meno si pareggiano a fine anno magari il bar è un pochino di più però basta cioè si fa questa considerazione questa considerazione non deve portare a ulteriori ragionamenti perché se tu iniziassi a pensare con ulteriori ragionamenti e avere uno sviluppo economico maggiore della tua impresa va a finire che poi ti trovi fuori strada per noi quanto i nostri ospiti quindi guest dell'ostello che consumano al bar o quanto dipendono dai locals milanesi che vengono a consumare al bar questo è impossibile scendere poi c'è l'autoconsumo ecco l'autoconsumo influisce parecchio da quando c'è la Guinness poi l'autoconsumo penso che sia una voce da prevedere nel business plan cosa va in casa? niente solo la parte di appunto commissioni e varie oneri di gestione sono le commissioni di carte di credito commissione sui affidamenti le fiduizioni le spese bancarie interessi passivi di conto corrente dei mutui e gli ammortamenti materiali e materiali che sono appunto uno strumento fiscale per spalmare i costi sostenuti in fase di start up nei diversi anni dell'attività comunque c'è da dire che molte di queste anche scelte come diceva prima Pietro non avendo un riferimento non avendo mischiato un po' le carte con varie considerazioni su in questo caso sì il bar oppure cosa può avere un albergo che la situazione è più simile a quello che vogliamo fare noi è tutto però sono delle cose con cui siamo partiti e su molte siamo poi intervenuti in corso d'opera anche tutt'oggi c'è anche le considerazioni sulla lavanderia ad oggi vengono ancora fatte perché è chiaro che quando inizi hai un è un po' come no quando fai la spesa è chiaro che inizi a fare la spesa vai sul primo prodotto e poi pian piano magari uno ti consiglia un'altra cosa costa di meno la stessa qualità o altro e su un'attività del genere in cui puoi spostare i tuoi costi su qualcosa di più o meno utile all'attività no? è qualcosa cioè noi abbiamo introdotto delle cose sempre in più perché magari aiutavano tutto quello che è il comprensorio delle facilities per i nostri ospiti riuscendo in questo lavoro di ricerca anche perché voi tenete cosa di una cosa e non dimentichiamocelo mai che quando noi abbiamo iniziato eravamo noi tre quindi noi tre abbiamo passato anche dei mesi in cui non riuscivamo a soffermarci sulle cose fortunatamente si sono stati stravolti e travolti dagli eventi dagli avvenimenti non ci bastava più lo spazio dovevamo risolvere le cose quindi molte cose nel momento in cui ti trovi a fare il turno di notte la mattina mettere sulla collezione all'inizio addirittura andavamo noi a pulire le stanze dormivamo nascolio io dormivo sulla poltrona pronto a svegliarmi se qualcuno scendeva giù questo chiaramente all'inizio ha fatto sì che in modo un po' ingenuo a volte bruttamente in altre grosso anche perché noi all'inizio eravamo prudente sì sì no su cose molte più prudente ma la prudenza magari a volte ci ha fatto avere dei costi più alti perché nel dubbio spendere di più è chiaro che adesso avendo creato una struttura e uno staff che come accennava Pietro andremo a descrivere dopo ci permette o ci ha permesso anche in alcune situazioni di delegare ad altri un lavoro quotidiano e continuo nel cercare di abbassare comunque almeno quello che sono i costi su prodotti come su servizi o altro però è sicuramente qualcosa che l'ha fatto con molta tranquillità perché a seguire altro quindi all'inizio c'è stata anche questa difficoltà di essere comunque attivi fisicamente che è stata la fortuna di creare a nostra immagine di somiglianza quello stello ma ha tolto poi anche un po' di energie a seguire altri aspetti però non è un qualcosa di bloccato cioè un qualcosa che anche solo all'inizio abbiamo stravolto di stravolto in mille occasioni comunque bisogna pensare che comunque è sempre come se fosse una macchina che va sempre calibrata carburata e seguita giorno per giorno migliorata e non lasciata andare come insomma metto un sasso sull'acceleratore questa va bisogna sempre stargli dietro e stare attenti e anche sul discorso del business plan non è che una volta che uno fa partire l'attività ok mi è servito punto e basta bisogna avere un continuo paragone tra i risultati che tu ottieni e quelli previsti per cui continuare a riempire le colonne con i numeri di mesi andando a vedere quanto uno si discosta dalle previsioni quanto è da cosa sono dovuti questi scostamenti errori di valutazione errori imprevisti e serve tutto avere una come si può dire un una parola ecco un continuo del lavoro non pensare che appunto il bisogno di l'attività si fa ok lo fa ai numeri tornano ok perfetto chiuso finito facciamo partire la nostra attività tanto quelli sono i numeri no bisogna veramente mese per mese a trimestri a semestre fermarsi e vedere se i numeri sono rispettati se si è sottostimate alcune voci se sono sovrastimate e di conseguenza regolato e migliorato mese dopo mese allora il livello di occupazione il livello di fatturato abbiamo superato le aspettative forse potremmo stare più attenti a ottimizzare alcuni costi quelli che stava dicendo Nicola che abbiamo trascurato magari presi troppo dall'attività quotidiana dagli impegni quotidiani di fare tutto noi abbiamo trascurato magari alcuni dettagli alcuni aspetti per cui magari si poteva far meglio però abbastanza soddisfacenti ovvio non da diventare nessuno di noi si è comprato il SUV io l'ho prenotato diciamo che la prima grande spesa che ci siamo permessi dopo un anno di enormi successi inaspettati è stato comprarci il tavolo da ping pong quindi è la televisione nuova sì è la televisione nuova però appunto io ritengo che per come vanno quello che vedo in questo paese culturalmente normalmente se un altro imprenditore avesse avuto il successo che abbiamo avuto noi te lo saresti ritrovato col SUV nuovo preso in leasing messo lì davanti e esibito in giro diciamo che siamo tutti e tre d'accordo sul fatto che gli utili siano stati forse un po' inferiori rispetto alle aspettative però insomma siamo anche d'accordo che è il primo bilancio il primo anno di un bilancio nel senso quale attività penso che parte da zero possa registrare degli utili elevati al primo anno d'attività no ma ecco volevo finire di rispondere quindi sono sicuramente inferiore però appunto prima cosa dopo un anno di lavoro va già molto bene e poi c'è un'altra considerazione magari ci lasciamo su questa poi andiamo a parlare dopo sul fatto ritorniamo ancora una volta alla nostra megalomania perché nessuno si vuol fermare qua e non abbiamo fame il fatto dell'ostello quando parlo di target eccetera è fatto per chi si sa accontentare non abbiamo bisogno di fagocitare chissà cosa non abbiamo bisogno di riempirci i portafogli no a noi basta pagare le tasse basta riuscire a fare le cose fatte per bene riuscire ad avere un'esistenza degnitosa magari iniziare a mettersi qualche soldino da parte ma non non è quello che non miriamo alla ricchezza dopo no è lì che volevo arrivare più una visione di lungo periodo quando avremo decine di ostelli decine di ostelli allora lì si potrà parlare di sì di molto no io non guido quindi 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 quello è per il dopo devi saperti accontentare e noi ci insomma anzi trovo irrispettoso per quello che vedo in giro qui in Italia dire che noi ci stiamo accontentando no a noi va benissimo ci sentiamo molto fortunati e sta andando bene e sta andando bene non ci saranno chissà quali utili ora ma comunque è un anno e mezzo che abbiamo iniziato e in secondo luogo iniziamo a fare tanti ostelli e poi dopo si parlerà di quanto sarà l'utile e quanto sarà l'importanza economica di quello che stiamo facendo noi adesso manca solo la soddisfazione personale di dare lavoro a 20 persone in un momento di crisi come quello in cui stiamo vivendo adesso anche solo il fatto di poter avere un'attività che funziona in un momento di crisi così chiudono tutte le imprese attorno a noi noi vediamo i negozi nella via dove stiamo noi che pian pianino tirano giù le saracinesche uno dice ok questo è quello con cui si confronti non il boom economico in cui qualunque investimento diventa milionario qualche decina di anni cioè il confronto poi in realtà è anche che la situazione che c'è in generale è molto psicologica poi molto spesso nel senso che noi abbiamo avuto l'azzardo di dire entriamo in qualcosa e ci entriamo a gamba tesa come spesso Carlo usa a dire e sicuramente questa domanda chiaro ma anche in modo informale esce sempre fuori perché tutti quanti vedono che l'ostello c'è gente che viene il bar quindi molti immaginano poi di fare contenta casca agli altri è sempre più facile che farsi nelle proprie per noi come ha detto giustamente Pietro a fine dire i nostri risultati più che il discorso puramente economico sicuramente nell'aspetto veramente che per noi è molto ideale che va di pari passo nell'aspetto produttoriale non siamo degli sproveduti è il fatto di andare tutte le tre a Dublino e scendere da quel palco a Dublino con quattro premi in una città come Milano e quello con tutto lo sproccio sculturismo diciamo è per noi soddisfazione aver detto ok stringiamo noi tre la cinghia e per mesi dall'apertura di attività ma ancora prima perché a parte magari lavoretti sporadici e tutto per un anno non abbiamo lavorato e quindi quando abbiamo iniziato a lavorare ad assumere persone non è che abbiamo aspettato abbiamo fatto aspettare le persone abbiamo aspettato noi quindi se bisogna fare due conti io i conti li faccio su queste cose li faccio sul fatto che noi abbiamo aspettato per mesi darci il primo stipendio il primo stipendio che siamo andati era la metà dell'ultimo arrivato in ostello capito era molto anche simbolico adesso tutti quanti vengono in ostello le 23 persone a lavorare col sorriso e quello è sicuramente il risultato più alto che in nessun'altra situazione conferenziale sul concetto di impresa sull'impresa e tutto nessuno dirà mai perché è tanto facile come a Roma si dice fare i froci con quello degli altri raccontarsi raccontare tutto però poi nessuno è in grado o ha la soddisfazione di poter dire questa cosa qua no? che forse lo diceva Olivetti a Ivrea anni e anni or sono parlava di un concetto di impresa in questo modo tutti sono capaci di andare a fare delle trasmissioni a pensare noi nel nostro piccolo abbiamo già raggiunto questo obiettivo non abbiamo i sindacati dentro di noi partiamo Giuseppe? allora sfruttando come dicevamo un po' del diario un po' un diario di bordo delle foto magari adesso facciamo un attimo un accenno all'aspetto magari struttulare al re dell'ostello per poi entrare un po' nello specifico di alcuni accendi stati fatti prima anche presentato il business plan di cui poi parlerà Carlo che è la persona di noi tre che più si occupa anzi è il responsabile del brand marketing dello stello e andiamo nello specifico di quello quello che quello che vedete ritornando al discorso un po' di prima delle spese è quello che siamo riusciti a fare con vari giri con Pietro nel recuperare tutto quello che per noi poteva essere necessario quando prima dicevo che abbiamo puntato a togliere il più possibile dalla voce budget sulle spese di arredamento abbiamo fatto anche una cosa molto simpatica e molto apprezzata da tutti quanti che ci ha anche permesso di dare quell'idea di casa che è quello di aver fatto circolare fra i nostri amici sui social addirittura anche a radio una specie di lista nozze quindi abbiamo invitato le persone a rovistare un po' nei propri solai cantine e tutto e a regalarci tutto quello che poteva servire in ostello e vi assicuro ci è arrivato qualsiasi cosa cioè ci è arrivato cose immaginabili alcune abbiamo usate altre no e poi con Pietro abbiamo iniziato un po' a girare per mercatine e tutto per poter far combaciare due cose che era quello di dare un mood di casa al nostro ostello e soprattutto risparmiare senza mezzi termini quindi questo era un magazzino che ci era stato prestato in cui abbiamo iniziato a raccogliere cose abbiamo rimesso a posto e in questo momento in particolare stavamo un po' catalogando per capire quanta roba abbiamo recuperato quindi un po' di foto simpatica questo è il primo step del bagno cosa di questo bagno potete osservare che siamo molto orgogliosi è il bidet il bidet che spesso crea anche ilarità nei nostri ospiti perché non sanno cos'è un bidet o cosa serve per cui di solito ci fanno la lavanderia ci lavano le mutande come è capitato un po' a tutti quanti noi lo sciampo e per noi è stato molto molto importante ritornando un po' all'accenno a che regole abbiamo dovuto seguire noi queste regole le abbiamo anche queste regolamentazioni le abbiamo anche superate a livello di qualità nel senso che attualmente i bagni dell'ostello non sono il 60% come la legge dice che devono essere presenti nelle stanze noi siamo al 100% dei bagni in camera tutte le nostre stanze hanno i condizionatori la legge dice che almeno per 6 ore al giorno deve essere aperta la reception la nostra è aperta 24 ore su 24 nella cucina che potrebbe essere la stanza destinata a creare l'abitazione più in più sciccosa e anche più costosa come magari molti avrebbero fatto perché si affaccia sul terrazzo noi abbiamo preferito destinare quello spazio alla cucina comune perché un ostello senza cucina è come un cielo senza stelle scusate questo stupido paragone però la cucina in uno stello è comunque un momento di socialità se uno viaggia a low cost low cost devono essere anche gli strumenti che si mettono a disposizione dell'ospite per viversi anche in questo modo quindi andando a fare la spesa e cucinandosi in casa e soprattutto la cucina è uno di quegli ambiti in cui veramente la società esce fuori spesso almeno nella mia esperienza personale ha avuto più informazioni sui miei viaggi nella cucina o nelle aree comune degli ostelli che non leggendo le guide perché sono informazioni vere e non filtrate a cui addirittura puoi seguire un botte risposta con delle domande e con delle risposte le nostre stanze quella che vedete come vi accennavo prima in particolare quella con i letti gialli è la stanza quella la numero 8 è quella predisposta per i diversamente abili che chiaramente viene utilizzata da tutti gli ospiti mentre quella a fianco che è la stanza numero 9 noi abbiamo sei stanze in condivisione perché a noi il termine camerata non ci piace perché è già bassa e riporta il concetto anacronistico di cosa sono gli ostelli e quelle private le definiamo un po' le stanze dinamiche nel senso che partono come vedete in questo caso una composizione di letto matrimoniale ma avendo un parco macchine lette a castello le possiamo trasformare in quadriple o triple quindi questa dinamicità ci permette un po' di poter soddisfare le varie richieste che arrivano come facevo prima l'esempio di molte persone che vivono vogliono vivere all'ostello però magari avendo l'intimità del momento dormito della stanza quindi sicuramente chi va in ostello può essere anche quello che preferisce avere l'intimità ma poi vuol vivere quei momenti di socialità che l'ostello crea il terrazzo che chiaramente ha avuto evoluzioni poi in immagini successivi anche col supporto di facebook vedremo ha avuto un po' più di evoluzioni e di abbellimenti l'orto si parla tanto di chilometro zero noi siamo a centimetro zero perché come vedete chiunque ospite in ostello e sta cucinando può andare a prendere il basilico o la lavanda o altro e quindi unisce comunque anche un servizio con qualcosa di puramente estetico di abbellimento la maca che volevamo mettere da una settimana mentre loro erano in viaggio però a Milano diluvia sempre per cui ci stanno tutti bloccare e orgogliosi come vedete c'è ancora la polvere intorno non è così adesso la spina però è stata una delle prime cose che è arrivata quando stavamo finendo ed è anche lì che ahimè ha avuto l'inizio la battuta prima che faceva Carlo dell'autoconsumo il male di tutti i mali è quella spina lì a cui adesso poi abbiamo aggiunto la Guinness come vedete quando abbiamo iniziato c'era un tavolo nero un tavolino dell'IKEA con gli altri tavolini e su quel tavolo lì abbiamo fatto molte cene con gli ospiti ecco disegni questi qua sono i disegni è un particolare di una di una scala perché noi sulle scale ci sono vari di questi disegni che sono sicuramente belli li hanno abbellito molto ma sono stati soprattutto l'espediente per risolvere un problema che avevamo dal punto di vista di vigile del fuoco perché essendo le scale compartimentate doveva essere tutto in classe zero quindi non doveva prendere fuoco nulla e quindi avevamo sti muri bianchi non sapevamo come abbellirli e fortuna vuole che poi si è apparsa Elena Borghi ha creato questi murali sulle scale e quindi siamo riusciti a risolvere un problema e qui a inizio il yes we are open è la prima foto che abbiamo messo sul nostro facebook e a sto punto arrivano i primi ospiti e passerei la parola a Carlo e iniziamo il discorso brand marketing di come questa avventura poi ha avuto inizio e di come sono partiti e che scelte sono state fatte dal punto di vista del booking quindi del brand e dal punto di vista poi del social e della comunicazione la prima cosa che abbiamo fatto è stata il logo il logo di Ostello Bello doveva già comunicare quello che noi saremmo andati a fare da lì a breve il logo di Ostello Bello è un timbro fondamentalmente con un timbro che normalmente viene apposto sui passaporti quindi doveva richiamare l'idea del viaggio l'idea del continua del continuo mettersi in lungo un percorso per conoscere sempre di più per imparare sempre di più per essere sempre più curiosi innanzitutto noi si ritorna sempre lì alla nostra megalomania noi da subito avevamo in mente di creare un vero e proprio brand nel mondo degli ostelli quindi sapevamo noi avevamo la presunzione di sapere esattamente come doveva essere fatto un ostello e quali erano i messaggi che l'ostello vuole veicolare quindi da subito abbiamo cercato di fare il primo nostro obiettivo era quello di entrare a gambatesa sul mercato di Milano non doveva esistere un ostello non doveva essere neanche ipotizzabile che qualche altro ostello nel futuro sarebbe insomma fosse venuto fuori e avrebbe potuto diciamo rimpiazzarci nel come miglior ostello della nostra città quindi tutto quello che abbiamo deciso di fare sia da un punto di vista di ristrutturazione sia da un punto di vista di presenza sul sul mercato dovevamo comunque primeggiare però nella nostra città non c'era neanche venuto in mente di vedere quali erano gli altri ostelli la top ten degli ostelli italiani perché comunque noi volevamo essere il miglior ostello di Milano anche perché detto sinceramente l'offerta era talmente povera che ritenevamo che potesse essere comunque alla nostra portata di mano l'idea qual era? L'idea era ed è tuttora è quella di io faccio spesso questo discorso ostello bello doveva stare agli ostelli come l'only planet doveva stare alle guide quindi qualcosa che fosse realmente riconosciuto ovunque quando io parlo della nostra megalomania ma noi volevamo fare una multinazionale e noi stiamo lavorando per fare una multinazionale stiamo di già impegnando le nostre risorse per essere presenti in altri paesi del mondo quindi dovevamo essere facilmente riconoscibili questa cosa poi anche lì abbiamo avuto una fortuna incredibile perché nel giro di pochi mesi le valutazioni dei clienti non erano clienti spot era gente che viaggia per ostelli 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 e ci siamo ritrovati a essere tra i migliori in Italia tra i migliori nel mondo poi i migliori in Italia poi tra i primi cinque nel mondo e questa cosa è stata per noi un'enorme fortuna piccola digressione io spesso anzi tutti noi usiamo spesso la parola fortuna siamo stati fortunati è vero sicuramente abbiamo avuto anche la fortuna di nascere anche in una situazione di chi più chi meno ma di privilegio perché da nessuno di noi è mai mancato nulla anzi però e questo lo dico con un un pizzicone di orgoglio tra di noi ce lo diciamo sempre la fortuna è come Machiavelli diceva un fiume e gli argini li costruisci tu quindi poi è ovvio che potrà arrivare l'alluvione del secolo e mandare in vacca tutto quello per cui tu hai lavorato però gli argini li costruisci tu e gli argini noi li abbiamo costruiti ma lavorando e facendoci mille pippe mentali su come poter dare sempre il massimo un'attenzione spasmodica verso ogni minimo particolare sia da un punto di vista estetico sia da un punto di vista di marketing sia da un punto di vista di controllo dei costi quindi quando noi diciamo cosa volevamo essere noi volevamo essere ci siamo ritrovati a voler essere i migliori voler essere i migliori e questa cosa per forza e questo atteggiamento per forza di cose doveva riflettersi in una in una fatica non indifferente però una fatica sempre avuta col sorriso perché ripeto quello che ho detto prima noi siamo esattamente il nostro target e quindi sappiamo quello che cerchiamo sappiamo quello che gli ospiti di un ostello cercano e quindi poi come marketing cosa devi fare tu prima cosa che devi fare dire io ho fatto un ostello perché sono uguale a te il nostro sito web fa schifo però la prima cosa che c'è scritta è che comunque noi siamo gente che va per ostelli c'è scritto che dopo aver girato per più di 200 stelli nei 5 continenti è giunto il momento di avere un ostello tutto per noi una sorta di identificazione con il tuo target cioè un rapporto di identità tra chi fornisce il servizio e chi invece utilizza quel servizio e ritengo che questa anche dal punto di vista del marketing sia stato sicuramente un qualcosa che ci ha messo su un altro piano rispetto agli altri cioè noi non siamo qui per fare business e basta noi non vendiamo il posto letto nessuno di noi e questo traspare poi nessuno di noi ha lasciato il proprio lavoro per vendere posti letto noi abbiamo lasciato il nostro lavoro per inseguire un sogno per mettere provare a mettere in realtà mille idee che ci erano venute in giro per il mondo viaggiando e questa cosa noi la dovevamo comunicare torniamo al sito torniamo all'aggettivo che avevo detto prima che deve essere l'aggettivo identificativo di Ostello Bello contemporaneo uno fa qualcosa e dice ok adesso dobbiamo fare un bellissimo sito mettiamo tutte le informazioni no se tu hai 100 euro da investire per il sito oppure da mettere come new media marketing eccetera tu ne investi 5 o 10 per il sito 90 per il social network perché non ha senso avere un sito della madonna se poi non ci va nessuno tanto a noi cosa serve noi dovevamo vendere comunque fare il booking online far sapere al mondo che c'eravamo tre paginette non dovevamo scrivere niente di più è un piccolo blog dove racconti poi le cose e la gente va molto di più sulla tua pagina facebook rispetto a andare quotidianamente sul sito attualmente Ostello Bello è l'ostello in Europa col più alto numero di fan su facebook questo perché questo perché c'è stata anche una gestione del facebook di facebook del nostro sito della nostra pagina facebook fatta in maniera differente se voi andate nelle varie fan page c'è un atteggiamento che per me è insopportabile cioè non tanto le offerte che quella ancora la domandina dove vi piacerebbe essere adesso perché se tu commenti allora poi quell'altro commenta dopo moltiplichi comunque il traffico che c'è su quella pagina e normalmente quella pagina dovrebbe essere più visibile agli altri noi invece cosa comunichiamo con il nostro facebook noi cerchiamo di comunicare quello che avviene lì dentro non abbiamo bisogno di dire di creare una sorta di trovare degli elementi che possano moltiplicare comunque il traffico o veicolare più persone sul nostro facebook non abbiamo mai pagato nulla non abbiamo mai fatto nulla di sponsorizzato su facebook in ogni caso però riusciamo attualmente a essere l'ostello in tutta Europa col più alto numero di fan su facebook l'utilizzo anche dei video l'utilizzo delle foto delle immagini la grafica voi qualsiasi cosa vogliate fare voi avete bisogno di un grafico che sia lì all'interno con voi non è che puoi sempre appaltare a un esterno l'immagine che tu vuoi offrire no perché l'immagine che tu vuoi offrire deve essere fatta da qualcuno che è lì dentro che vive con te che ha gli stessi sentimenti rispetto a quello che gli capita intorno quindi facciamo un esempio succede che arriva il tipo c'era un ragazzo turco che lavorava come cuoco in Trentino Alto Adige questo qui manda una mail dicendo posso prenotare da voi e si dice sì basta che ci dai gli estremi della tua carta di credito e procediamo con la prenotazione non ho la carta di credito e ci dispiace perché ci servirebbe la carta di credito ma facciamo così voi prenotatemelo comunque io vi porto in cambio due spec non sapevi neanche cosa dire vabbè vieni vieni tu vieni io stesso questo qua si presenta con due spec cosa fai? fai la foto racconti questa roba la butti su facebook e ha un riceve un'attenzione che è molto più da un punto di vista numerico è sicuramente molto più apprezzabile rispetto alla solita domandina perché ne so mettere la foto di una località dove è stata scattata questa foto piuttosto cos'è la cosa più strana che avete mai fatto durante un viaggio a Milano cosa consigliereste di mangiare a un turista che viene per la prima volta a Milano non è più il tempo di quelle cose è finto è posticcio tu devi comunicare quello che hai e la nostra enorme fortuna e questo cerchiamo di comunicarlo sui social network è il fatto di avere a disposizione un patrimonio umano incommensurabile perché avere 60 persone che ti dormono sopra e vengono da tutte le parti del mondo ogni giorno e quelle persone cambiano veramente hai un patrimonio che se lo sai leggere se lo sai comunicare spacchi perché poi loro a volte si affezionano anche al posto e non il facebook è per vedere cosa combinano gli altri guest non è per portare fan su facebook è una visione differente nello stesso identico modo questa cosa qua deve essere veicolata poi su Ossel World e Ossel Bookers Ossel World è fondamentalmente fondamentalmente cos'è Ossel World Ossel World è un portale è il portale su cui transita il 91.8% delle prenotazioni online di Ostelli a livello mondiale tutto passa di lì è un'impresa che tra l'altro ha solo 120 dipendenti ed è stata venduta tre anni fa per poco meno di 300 milioni di euro da dei ragazzi irlandesi a degli americani quando io parlo dell'industria degli ostelli perché qui c'è l'industria degli ostelli non si sta parlando uno ha sempre l'idea dell'ostello come una robina piccolina no in giro per il mondo ci sono grossi fondi immobiliari che investono in ostelli quando parlo di grossi fondi immobiliari parlo di roba da insomma migliaia e migliaia di metri quadri nelle principali città europee tu prego adesso mi viene in mente questo parlando di non lo so se sono fondi di investimento comunque catene grosse come Wombats o a Mininger non mi ricordo Generator e io sono stato in un paio di questi o comunque li ho visti da vicino però la cosa che magari là ti lascio un po' anche per le ricerche che ho fatto nel mio progetto molti commenti che ho trovato di persone che a cui questo tipo di ostello non piaceva erano pieni di servizi personale alla mano disponibilissimo quant'altro ma perché da Londra a Berlino a Parigi sono tutti uguali cioè la struttura dell'ostello l'interno sembra più un feeling da catena da McDonald's banale ma anche se magari non è un McDonald's però molti molti utenti richiamavano questa particolarità e non è che magari può diventare questo un pericolo perché uniforma un po' l'offerta ovviamente ci abbiamo pensato non l'idea è che quelli sono supermercati un ostello con da 500 800 posti letto ma tu non ti potrai mai ricordare come si chiama quel ragazzo lì esattamente anche gli altri ostelli che stiamo cercando di progettare più grandi del nostro comunque non superano mai 150 180 posti e già 150 180 è un bel po' però oltre quel numero tu non puoi andare perché poi sennò ti manca qualsiasi tipo di rapporto con con le persone che con i ragazzi che vivono con l'ostello con i veri padroni di casa che sono loro quindi l'idea è sicuramente quella di differenziare ma poi comunque di avere qualcosa che sia casa un posto da chiamare casa non è un un agglomerato di stanze anche figo con la discoteca la spa dentro eccetera 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 però stai vendendo qualcos'altro ma questo sicuramente anche da quel punto di vista lì noi cerchiamo di comunicare una nostra diversità su quello e questo è apprezzato cioè il fatto che gli ospiti possano venire lì e non sapere se un giorno c'è un un concertino un giorno c'è un 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 poi viene fatto tutto anche poi questo Nicola lo spiegherà meglio ma tutto questo che viene fatto tutte le varie eventi che vengono creati vengono fatti anche con pensando sempre all'ospite cosa cioè il reading in italiano non viene fatto ad esempio di questo sarà Nicola a spiegarlo meglio ora queste sono le famose review fondamentalmente uno va su Hostel World Hostel Booker Strip Advisor vede che noi abbiamo dei voti molto alti abbiamo una media aspetta ce la fai andare un po' più sopra a destra quella vedete che è la valutazione su 416 commenti sono quelli ricevuti negli ultimi sei mesi solo chi ha prenotato tramite Hostel World no esattamente solo chi ha prenotato tramite Hostel World riceve una mail dopo il check out perché il nostro software di gestione interagisce con Hostel World c'è stato un check out Hostel World manda una mail a quella persona che ha prenotato e quella persona può valutare questa cosa non avviene con TripAdvisor attenzione TripAdvisor è e rimane un ottimo strumento è successo a settembre o ottobre dell'anno scorso hanno fatto una sorta di dibattito radiofonico sull'utilità di TripAdvisor tra le altre cose sull'utilità di TripAdvisor e c'era il segretario della Federal Berghie anche che interveniva c'era uno che faceva guide turistiche tutti se la prendevano con TripAdvisor quando la verità è una sola TripAdvisor è lì per supplire le vostre mancanze tu che scrivi guide tu che scrivi articoli di viaggio tu genericamente sei uno dei primi colpevoli sei una delle prime cause di TripAdvisor perché se la gente iniziasse a fare il giornalismo in maniera seria in questo paese anche per recensire alberghi sono solo marchette il problema è che sono solo marchette quando ormai quando uno apre il giornale e legge un articolo su un albergo ok questo amico del tipo questo amico del giornalista questo deve fare un favore a quell'altro sono solo marchette se invece fossero messi a fare il loro lavoro avremmo una qualità delle guide e degli articoli ben differente ben differente ma è possibile vederlo ad esempio anche a noi tutte le volte ah ma vogliamo fare un articolo su Ostello Bello uno che vuole fare un articolo su Ostello Bello cosa ti immagini che faccia? prende viene a vedere fa una chiacchierata con noi no cartella stampa e delle foto in alta risoluzione per fare poi il copia e incolla del pezzo della cartella stampa e metterle foto in alta risoluzione non fanno più quel lavoro e se non fate più quel lavoro chi è che lo fa? TripAdvisor e anche tu segretario di la Federal Berghie cosa pensi? che guarda il TripAdvisor è il miglior strumento per un povero Cristo che vuole lavorare bene e non ha la possibilità di finire sulle guide spesso poi le guide devi pagare per finirci dalla Ruttar dalle altre cose eccetera quindi uno dice io sono segretario di la Federal Berghie cosa c'è di meglio per i miei iscritti che se lavorano bene possono vedere immediatamente il frutto del loro lavoro e che questa cosa sia visibile a tutti anche perché poi altra cosa che va detta noi all'inizio pensavamo finiamo su Nolly Planet e lì siamo a posto ma va ma siamo dei vecchietti noi la gente guarda solo per dormire solo esclusivamente o se il Word o se il Booker o se il TripAdvisor perché comunque per una guida la guida cosa fa cristallizza qualcosa che è già passato se poi addirittura tradotto hai un'informazione vecchia di un anno e mezzo almeno cosa che invece con queste robe non ce l'hai perché ce l'hai di ieri dell'altro ieri con ragazzi di tutto il mondo che si mettono lì a dire guarda è buono per questo è cattivo per quello eccetera eccetera a proposito di review cosa che è molto importante per chi vuole provare a fare qualcosa di simile alla nostra attività attenzione perché poi si rischia di diventare schiavi della review e in un ostello non sempre tutti quelli che arrivano sono le persone migliori della terra e tu cosa fai? hai sempre paura che questo ti metta una cattiva review? cioè tu non mandi a quel paese qualcuno che si sta comportando da perfetto maleducato semplicemente perché hai paura che ti metta una brutta review? no tu questa cosa non la puoi permettere perché tu lì dentro devi far capire a tutti che ci sono delle regole che ci si comporta in maniera educata se tu fai il caffone con me io non è che ho paura che ah ma no sei su steluo poi magari no io ti mando a fanculo ma lo devi fare lo devi poter fare perché quella è casa tua quella è la tua attività quella è la tua struttura è molto importante questa cosa di non essere poi schiavi dalle recensioni che ci sono quindi vabbè qui ci sono metti le peggiori no devi mettere queste sono le peggiori ah ma c'è è già tradotta ah vabbè questo si lamentava dei letti a castello i peggiori no sì non era neanche peggiore i più ondulanti cosa che poi tra l'altro non è neanche più di tanto vero secondo noi però qualcuno ci sarà sempre però se queste sono le peggiori ed è un 70 un 73 un 77 un 80 e queste su più di 400 vuol dire che comunque il posto piace ah sì e poi c'è quello che dice un po' lontano dal Duomo sono 400 metri dove volevi sulle guglie del Corea del Sud sì insomma il prezzo è troppo alto poi anche lì dipende è una mezza pensione fondamentalmente a 30 euro io non so una persona voglia comunque questo per semplicemente per dire che appunto non si può piacere a tutti non c'è da fasciarsi la testa quando arrivano brutte review però sai cosa potremmo far vedere Micos? le directions tu o stello bello oppure la colazione uno dei due su youtube ok sì quindi questa era una dimostrazione di come fare qualcosa che normalmente viene fatto in maniera triste in maniera trita e ritrita trasformarlo con canoni appunto contemporanei giovani allegri un po' di spensieratezza e sono elementi che dovrebbero venire fuori pian piano nel vedere poi i video tipo adesso colazione facciamo ad esempio la colazione qui non era messa giù bene cioè non c'era un chi ha fatto l'alberghiero può vedere ragazzi ma potete metterla un po' meglio questa colazione però non è quello che noi dobbiamo comunicare non è quello il messaggio che noi vogliamo veicolare noi vogliamo far capire una situazione di freschezza una situazione di casa una situazione di interazione tra persone che vengono da paesi e culture differenti l'aspetto leggero l'aspetto di divertimento deve esserci sempre il fatto di non prendersi troppo sul serio poi la cosa divertente è che noi siamo perennemente in bilico tra l'estere fin troppo autoironici o prenderci eccessivamente in giro e invece dall'altra parte avere un'attenzione maniacale su ogni dettaglio ed è la cosa più difficile è la cosa più difficile far sembrare tutto come se fosse naturale normale e non organizzato quando invece dietro c'è una visione che ha ben preciso nella sua mente estremamente preciso e organizzato tutto ciò che deve essere lì dentro e cerchiamo appunto di mostrare questo penso che sulla cosa del marketing beh c'è da dire ad esempio di utilizzare al meglio anche le proprie sfortune cioè noi i nostri picchi di facebook li abbiamo raggiunti quando abbiamo avuto le sfighe quando ci hanno portato via i pesci rossi quando ah sì quello è già tuo il trionfo dell'idiozia che erano gli Olympic Games di Ostello Bello quello lo fai tu poi usiamo questo per iniziare per passare questo vabbè ok qui quando siamo andati a riprenderci i pesci rossi all'acquario comunque questa è una mezza cretinata però che da dall'idea di quello che facciamo noi cioè sembra quasi che il nostro lavoro sia andare a riprendere un pesce rosso quando invece in realtà poi si tratta di andare a parlare con banche con fondi immobiliari dare un'idea di semplicità perché l'ostello deve essere semplice ed è casa cioè mostrare che lavorarci dentro deve essere divertimento poi la gente che lavora lì si becca dei cazziatoni che la metà basta anche per poi non l'abbiamo detto non si so per noi lui è scheggia perché qualsiasi cosa ci sia da fare la sta già facendo oppure lui è acqua santa io miccia corta perché mi incazzo molto facilmente basta nulla però siamo molto attenti acqua santa però vi ha ragione insomma siamo molto attenti a tutto quello che c'è da fare però è importante riuscire a trasmettere un messaggio di tipo di tipo diverso una tipo un messaggio di tipo casereccio familiare deve venire voglia di starci lì dentro anche se hai 80 anni per quando facevo il discorso prima di ostello bello deve stare agli ostelli come l'only planet deve stare alle guide è esattamente quello quando è iniziato l'only planet venivano segnati solamente luoghi in cui potevi dormire con meno di 10-15 dollari adesso l'only planet ti propongono anche di andare a dormire in posti a 300-400 euro a notte qual è la differenza perché lo fanno perché io penso faccio il solito esempio di mia madre che fai in hotel tutto carino cosa eccetera eccetera però si porta dietro l'only planet perché si sente in viaggio se hai l'only planet si sente più viaggiatrice meno turista far la stessa cosa con l'ostello il fatto di poter andare lì e spendere poco se vuoi dormire in camerata con anzi in camerata con gli altri piuttosto che avere la tua privata che spendi un po' di più e però è pulita è una cosa precisa dove puoi stare e appunto che far capire anche il target non è quello che culturalmente storicamente anzi più culturalmente che storicamente riconosciamo come il il mezzo quasi il mezzo panca bestia ma è fatto da gente estremamente educata estremamente rispettosa in un contesto gioviale brioso contemporaneo e soprattutto allegro un'allegria che viene data ancora una volta dalla reciproca curiosità che c'è tra gli ospiti stessi e poi si torna sempre al vecchio discorso che va comunicato le due anime due anime che popolano quel posto i locals e i guest in modo tale che ci sia una perenne che queste due anime si alimentino vicendevolmente in una sorta di continuum che va avanti ritornando al discorso del marketing e della promozione nei vari ostelli in cui sono sono stato spesso vedevo delle brochure oppure dei cartoncini promo di altri ostelli magari in altre città all'estero voi siete collegati fate una cosa del genere anche all'estero noi lo facciamo per fare un favore fondamentalmente no dico i vostri chiamoli chiamo brochure non so se avete le brochure sono presenti vi siete collegati ad altri aspetti stavo dicendo quello noi lo facciamo come favore noi non crediamo nel brochure non crediamo nei flyer non sprechiamo carta a fare soldi a fare robe c'è la rete abbiamo questa grossa fortuna di essere capitati in questo momento storico e l'idea è che innanzitutto poi i flyer sporcano vengono tenuti lì per mesi e mesi il nostro esteta non permetterebbe mai una cosa del genere quindi abbiamo dei quadernoni in cui inseriamo dentro le cartelline trasparente i flyer degli altri visto che ce li mandano ci sono poi gli ostelli che ci sono più simpatici e meno simpatici quelli meno simpatici quando ci mandano le brochure le prendiamo e le buttiamo via quelli simpatici cerchiamo di sostenerli in ogni modo possibile è molto importante il discorso di fare rete questa solita roba sinergie bla 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 però chi fa questo lavoro è più fortunato di altri perché i colleghi normalmente è gente simpatica lo dicevo prima provate a passare una settimana solo con avvocati e provate a passare una settimana solo con gestori di ostello vi garantisco che c'è una differenza enorme c'è una differenza enorme a livello proprio di lucidità di voglia anche di normalità la prima volta che siamo andati a una conferenza di ostelli c'erano solo due regole da seguire per le condizioni per poter partecipare uno era avere l'ostello già in essere la seconda era non più di due persone per ostello il nostro ostello ancora non avevamo iniziato i lavori di ristrutturazione ci siamo presentati in sei non c'è stato nessun problema e la cosa divertente lì era che c'era gente che se becchi in tram dopo una certa ora magari non ti ci siedi accanto in realtà questi erano gente che aveva fatto aveva avuto notevole successo nella propria attività imprenditoriale anche da un punto di vista economico ma c'è una umanità di fondo un senso della misura io raramente ho riscontrato quel qualcosa che permea la società italiana quindi il senso della la chiamavano hubris con la tracotanza il fatto di non avere il senso della misura e non sapersi tenere a posto va comunicato anche quello il fatto che è un posto tenuto da esseri umani per esseri umani per guardarsi non in cagnesco ma in via amichevole e di accoglienza pochi giorni fa abbiamo tirato abbiamo fatto un altro post su facebook in cui c'era la foto delle bandiere italiane noi il 25 aprile dell'anno scorso abbiamo messo le bandiere italiane fuori dalle finestre del stello bello non le abbiamo più tolte perché ci siamo resi conto che era una stupidata quella che succede in giro per il mondo per cui tu per mostrarti accogliente devi mostrare le bandiere altrui no tu puoi tranquillamente con la bandiera italiana dimostrarti accogliente e dire benvenuto questa è casa tua anche se è la tua bandiera e non hai bisogno di mettere quella altrui per simboleggiare una sorta di capacità di accoglienza differente rispetto agli altri ci sarebbe a dire molte altre cose penso che però da queste poche rubine ci sia possa essere chiaro più o meno qual è il messaggio che vuole essere essere comunicato basta se ci sono domande o altro volevo chiedervi una cosa tecnica perché molto spesso tutti noi abbiamo delle buone idee ma difficilmente poi riusciamo a convertirle come è stato per voi in una professione in una passione voi avete avuto la fortuna definendola come la definivi tu di coniugare una passione ad un'intuizione e poi ad una professione tecnicamente però oltre alle vostre singole professionalità ed esperienze avete avuto il supporto di qualche altra professionalità insomma che vi ha consentito poi di fare le scelte giuste o è tutto frutto della vostra passione coniugata alle vostre tre precedenti esperienze allora io già avevo in scarsa simpatia gli avvocati adesso oltre a quelli si è aggiunta la categoria degli architetti ah giusto vabbè io ero avvocato quindi ok ok va bene ok quindi sicuramente non sono stati gli architetti aiutarci abbiamo avuto la fortuna di trovare un ottimo commercialista che è riuscito a mettere su solide basi la nostra la nostra attività questo commercialista purtroppo non c'è più e noi abbiamo capito dopo che era tutto stato un suo regalo per lasciarci in eredità qualcosa che fosse estremamente solido e inattaccabile sotto nessun punto di vista notare che poi questo il commercialista era anche di idee politiche opposte alle nostre ma questo è proprio fascio però siamo proprio in un'ottica di contemporaneità gli siamo piaciuti molto lui è piaciuto molto a noi è una persona alla quale siamo e saremo sempre grati oltre a questo poi qualcuno che ha fatto i lavori all'interno dell'ostello stiamo parlando prima di Romolo il signor un po' cicciottone che ci ha fatto gli impianti di reazione forse devo dire no cioè se io trovo una figura professionale che ci ha aiutato tanto oltre al commercialista no anche perché fondamentalmente questo è un lavoro nuovo cioè noi stiamo facendo qualcosa di nuovo nessuno l'ha fatto l'ostello aperto al pubblico non l'ha fatto nessuno e perché è aperto al pubblico perché noi viaggiando siamo resi conto che gli ostelli erano degli posti splendidi dove sentivi lingue diverse colori diversi odori diversi una socialità incredibile però erano dei ghetto lì fuori la città che ospitava l'ostello non si accorgeva di quell'enorme patrimonio umano e invece l'idea era proprio soprattutto come una città come Milano quella di sbatterglielo dritto in faccia dire guarda si possono fare le cose in maniera diversa e addirittura queste cose si possono fare in maniera imprenditoriale chi ci ha aiutato sicuramente tanto ma quello dal punto di vista di generosità umana per cui non so quanto sia inerente poi alla vera e propria realizzazione dell'ostello nel concreto un po' diciamo in certi tecnicismi imprenditoriali di cui si può parlare o per aggrapparmi a quello che dicevi te buona idea come la faccio è sicuramente quelle persone che hanno supportato perché chiunque nel minimo ci ha dato magari una mano che poteva essere magari l'amico con più esperienza che magari fa il lavoro di SEO e quindi ci ha dato l'aiuto a capire delle cose è anche vero che molti di queste aiute andavano poi si racconta anche del tasso molte di queste di queste aiute andavano comunque sempre filtrate nel senso che chiaramente se hai sempre fatto una determinata cosa se hai un immaginario invece diverso ma anche non so l'amico che ci ha aiutato a fare il sito cioè si faceva fatica a fargli comunicare che noi volevamo comunicare qualcosa altro diverso chiaro che se fai i siti hai magari una bella creatività ma fai sempre qualcosa legato a quel tipo di sito che è legato al vendere un tipo di prodotto come può essere il tuo cliente abituale c'è se per quella difficoltà di riuscire poi a filtrare una peculiarità alla professionalità di qualcuno con quello che poi è la tua chiave di lettura quindi sicuramente in quello siamo stati un po' capa toast noi e quello è servito molto a parte poi quelle figure essenziali che poi come sempre anche con i migliori amici te ne accorgi quando poi non magari non ci sono più per concludere questa parte qua per farvi vedere un attimo visto che stamattina l'abbiamo un po' buttato giù adesso vi portiamo su farvi vedere quello che poi rientra anche nel discorso diciamo marketing che è legato al fatto di far vivere sempre di più il luogo come un stello bello quindi nel nel dare qualcosa agli ospiti vi faccio vedere la cosa più stupida una delle tante cose più stupide che abbiamo fatto e che comunque ci è servito comunicare per questo anche semplicemente per i milanesi spesso di un stello bello in modo anche come boomerang non per noi ma per chi ci voleva attaccare ci è tornato indietro positivo però troppo spesso ai messi comunicava della parte difficoltosa o brutta di tre persone per fare imprese e tutto pesante invece noi a Milano e non solo abbiamo voluto comunicare che allo stello bello si sta bene perché si mettono insieme gli ospiti e la gente che Milano la vive anche semplicemente facendo di fare una roba del genere attenzione via attenti via 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 l'anno scorso l'anno scorso in comitanza con le Olimpiadi abbiamo voluto comunque attraverso il gioco poter unire queste due anime no e come farlo con la cosa più più simpatica che era quello di mettere insieme per cui avete visto uno spezzone che ci faceva più ridere poi per il fatto che uno di quelli che volava era uno dei altri soci dell'ostello ma abbiamo per 12 giorni giocato quindi abbiamo fatto le cose più stupide dall'apnea nella cosa d'acqua la gara di birra braccio di ferro e rutti abbiamo fatto un po' di cose e facendo anche magari anche il limbo e non so facendo vincere la ragazza pakistana anche se avrebbero vinto i due americani quindi giocando anche un po' a fare della diplomazia politica e mondiale cercando di far stare felici e contenti tutti però era una delle tante cose che a volte visto che stavo introducendo il discorso eventi e contenuti le cose più semplici a volte sono le cose più funzionali e migliori io approfittando sempre tornando al discorso foto volevo introdurvi che è un po' già accennato Carlo al fatto che Ostello Bello è diventato il punto di riferimento per la città proprio perché c'è sempre stato sin dall'inizio questa voglia di creare comunità creare comunità è una comunità che non ha non ha colore non ha idee è qualcosa di mobile che viaggia che si muove anche la stessa utenza di Milano è qualcuno che viaggia nella città si muove molto e magari può avere un punto di riferimento le cose più soddisfacenti per noi è per caso il ragazzino del liceo che magari tutto l'anno l'ha passato a studiare che poi torna dalle vacanze estive e ti viene a raccontare che per la prima volta è andato per Ostelli e quello è uno dei più grandi risultati come dicevo prima siamo al Dehab Ostello Bello è diventato un Dehab adesso che molta gente viene a studiare a lavorare proprio perché c'è questa voglia di creare un luogo di aggregazione perché è molto più facile far realizzare le cose quando addirittura sono naturali noi non abbiamo fatto nulla per pubblicizzare l'Ostello Bello come un laboratorio una zona di co-working di studio è diventato tutto ed è nato tutto in modo molto naturale forse perché il wifi qui siamo al Dehab in Ostello Bello questo fruettino non verrà mai dato non esiste all'Ostello Bello chiunque entra può connettersi soprattutto se poi la gente lo fa per creare veramente qualcosa che sia studiare che prepararsi la tappa successiva del viaggio e tutto e tutto questo ha creato un aspetto naturale e in questo aspetto naturale Ostello Bello è diventato ahimè la mia mail poi è bombardata di richieste è diventato anche uno spazio aperto a qualsiasi cosa qualsiasi cosa chiaramente bisogna vedere poi che cosa Ostello Bello ad esempio è diventato il luogo preposto per l'associazionismo a Milano proprio perché noi pensiamo che si possa fare impresa e non per forza bisogna aspettare il 5x1000 o di diventare una mega fondazione per ripulirsi l'immagine ma che Ostello Bello possa ospitare tutte quelle realtà che non hanno le possibilità nella loro natura di avere uno spazio fisico e hanno bisogno in ogni qualsiasi momento di comunque organizzare delle iniziative e via dicendo Ostello Bello è diventato un laboratorio nel senso che il palco dell'Ostello Bello il più possibile viene dato a chi ha bisogno di suonare o di presentarsi lì entriamo poi nel problema che spesso è un po' un freno per noi perché Ostello Bello cerca di avere ad esempio non abbiamo mai parlato prima si parlava del bar senza nello specifico però la politica che è stata fatta da parte nostra è quello di avere un'accessibilità l'Ostello Bello spesso e quasi sempre ha i prezzi più bassi molti dei circoli arci di Milano con la differenza che la mia birra viene scontrinata detto che quella birra c'è la persona stipendiata che la sta spinando e via dicendo ma è stata fatta una scelta una scelta che è quella dell'accessibilità di permettere che se tanto si critica la città a Milano più che a Bari probabilmente si pensa che Berlino e Barcellona siano il futuro ormai vecchio però siamo cose diverse quando poi basterebbe veramente poco con una città come Milano creare delle situazioni e creare quelle situazioni è rendere accessibile a molti le cose perché spesso i milanesi si lamentano però poi poco si lamentano quando vanno in certi locali di Brera o altri a spendere più di 10 euro per un cocktail semplicemente per raccontarsela per dire ho fatto questo vado in quel posto quindi noi cerchiamo di scardinare tutto e questo scardinare tutto è a volte comunque anche un problema perché l'accessibilità poi alla programmazione ad esempio musicale di Ostello Bello crea un po' degli imbarazzi e l'imbarazzo è che non sempre ci possiamo permettere magari il gettone proprio perché Ostello Bello ha fatto una scelta di campo che è quella di seguire sempre le regole e le regole più possibili si seguono quindi vuol dire che un concerto ha il pagamento della SIAE prima se ne parlava in modo così informale Ostello Bello paga addirittura le chitarre che sono a disposizione degli ospiti e nel paradosso della legge italiana Ostello Bello paga la SIAE ma perché il paradosso? perché Ostello Bello che è un ostello ha l'obbligo dal punto di vista legge regionale di promuovere almeno una volta al mese una programmazione culturale quindi se la legge mi chiede di essere promotore culturale o di fare tantissime altre cose e poi ce n'è un'altra legge che invece mi dice di pagare c'è un'altra legge che mi vieta di fare delle cose noi ad esempio rischiamo tutti i giorni che un controllo ci dica che non è possibile che i ragazzi di liceo a fianco siano lì a studiare perché se no sarebbe biblioteca biblioteca vorrebbe dire avere altre normative sui rapporti dell'illuminanti altre normative per quanto riguarda le sedute e via dicendo quindi viviamo perennemente un po' nel paradosso di potere e voler fare delle cose la programmazione culturale come diceva poi Carlo comunque tende sempre a avere un ritorno un ritorno che non è per noi tre è un ritorno per chi vive all'ostello soprattutto gli ospiti per cui noi ad esempio visto che stiamo un po' in un ambito molto simile abbiamo ospitato i gas di zona sapete tutti cosa sono i gas i gruppi d'acquisto della zona e abbiamo fatto una scelta che era quella visto che c'è una bontà dietro il vostro progetto non vi facciamo pagare l'affitto come facciamo quasi sempre con tutti ma date qualcosa in cambio qualcosa in cambio è visto che si tratta di fare un test di pasta siamo in Italia offriamo la pasta agli ospiti dell'ostello quindi è lì che si crea l'aspetto sinergico e l'aspetto di dare qualcosa anche nell'ottica di essere presenti sul territorio quando c'è un interscambio fra la natura dell'ostello chi lo visita chi viene lì ospitato a fare determinate cose come in altri momenti si è sempre cercato di come diceva prima Carlo il reading è un po' più complicato perché chiaramente il ritorno per l'ospite dell'ostello è più difficile invece magari la musica anche se uno canta in italiano la musica è abbastanza per tutti quanti altro problema che ci si è posto è poi ad esempio gli aspetti commerciali che cosa possiamo fare o non fare quando si può quando si può noi ad esempio abbiamo anche ospitato comunque brand importanti come può essere Ispac desiguale e tutto lì sono cose puramente economiche rimane sempre in un rapporto abbastanza etico preciso e pulito lo facciamo perché quelle cose ci permettono anche poi il giorno dopo magari di non far pagare nulla a chi fa un altro evento che non ha scopi diciamo commerciali mostre voi sapete che le mostre anche se è una mostra fotografica di quattro amici che sono andati a farsi un giro per fare il mongorrelli con la mossa lì avrei dovuto pagare la SIAE lo sapevate voi questo è l'assurdo per cui bisogna sempre capire che cosa si può o non si può fare e grazie a tutti